Un attore molto solare, un attore che amava la vita, che amava sua figlia e che non avrebbe mai compiuto un gesto del genere, quindi l'esatto opposto di Joker. A volte ci sono questi personaggi che appunto, come dicevamo prima, i fan non si accontentano della storia che viene raccontata da Koraner, eccetera, quindi continuano e vanno avanti a ricercare, non si arrendono. Posizione numero 4.